Alessandro illude, poi il Matese nella ripresa ribalta la partita e fa sua la gara imponendosi 3-1. Ad avvio gara un minuto di silenzio per ricordare Piero Americo, collaboratore della Vastese, scomparso in settimana. Padro di casa in campo con il lutto a braccio e con Capitan Di Filippo che ha deposto un mazzo di fiori sotto la curva d'Avalos. Giornata di dolore anche in casa Reteotto per la scomparsa della moglie del nostro operatore video, Edoardo D'Addario, a cui vanno le nostre sentite condoglianze. Passiamo alla cronaca, nei biancorossi che vengono da 9 risultati utili consecutivi, D'Addario si affida al solito 4-3-3, tornano Corticchia per Monza e Alessandro per Lenoci. Nei campani che vengono da 4 risultati utili consecutivi, Corrado Urbano schiera anche gli un 4-3-3. Le due squadre partono al piccolo trotto, la prima occasione dei padroni di casa alla minuto 22, Cecacci in acrobazia conclude, tiro respinto da un difensore in maglia verde. Alla 34esimo Lavastese passa in vantaggio con Alessandro, il numero 10 si fa trovare al momento giusto, nel posto giusto e con un tocco morbido sul primo palo batte un incolpevole del giudice. Questo il replay, messa male la difesa ospite, tutto facile per il fantasista Biancorosso che sigla la sua dodicesima rete stagionale. Alla 42esimo si rivede finalmente il Matese con un colpo di testa di Congiu, la palla finisce di poco a lato. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa, nel secondo tempo i campani partono meglio e schiacciano Lavastese nella propria metà campo. Alla 27esimo il Matese ci prova con Calem, conclusione telefonata, è tutto facile per Di Rienzo. Alla 34esimo punizione di Agnello, Allegra va di testa, palla di poco a lato, gol mangiato e gol subito. Alla 36esimo gli ospiti pervengono al pari con un colpo di testa di Galesio che batte un non impeccabile estremo biancorosso. Questo il gol dell'1-1. Alla 40esimo punizione di Agnello, Stivaletta manda a lato. Alla 43esimo tocco di mano in area di rigore della Vastese su calcio di punizione ospite. Il direttore di gara Lipizzier assegna il rigore sul dischetto Vagalesio che spiazza Di Rienzo e fa 2-1 siglando la sua doppietta personale. Alla 48esimo, occasione per la Stivaletta che calcia di prima intenzione ma del giudice distinto respinge. Alla 50esimo arriva il 3-1 con Napoletano che scavalca Di Rienzo in uscita e deposita in rete un cioccolatino. E questa l'ultima azione della gara. L'Avastese si ferma dopo 9 risultati utili consecutivi. Il Matese si conferma sua bestia nera con 4 sconfitte in altrettante gare. Mister D'Addario eravate partiti bene, poi cosa è successo? Abbiamo fatto tutta la partita bene, siamo arrivati fino a 10 minuti dalla fine. Abbiamo creato, penso che fino al gol loro di Rienzo sia stato inoperoso. Noi abbiamo creato 4 palle gol. L'Avastese è una squadra molto cattiva, sotto profilo agonistico, quindi molto agonistica. Ed è una bestia nera nostra. L'anno scorso abbiamo giocato molto bene, abbiamo perso 2-1. Oggi penso che meritevamo, dobbiamo giustificare 3 gol. E quindi ci viene quasi da sorridere. Però poi il calcio è questo, bisogna accettarlo e bisogna riconoscere che poi c'è sempre un vincitore che va rispettato al di là di come poi sono venuti i gol. Due episodi da Moviola. Uno nel primo tempo poteva starci un rigore per voi. Poi invece è stato assegnato un rigore per loro. Se li vuole commentare. Stiamo a commentare queste cose che ormai sono andate. Penso che c'è Cacci, che è un ragazzo del 2003, e mi dice che ha la mano sul corpo, non aumenta il corpo, la figura, e quindi di conseguenza non è rigore. Però poi siamo lì a commentare. Io commento invece 7 ammunizioni che erano inaudite. 7 ammunizioni senza un perché. Posso capire il fallo di gioco, ma 7 ammunizioni in una partita del genere non posso accettarli in un campionato normale come questo. Mister Corrado Urbano, il Matese si conferma bestia nera della Vastese. Negli ultimi due anni la formazione Biancorossa non è mai riuscita a vincere contro la sua squadra. Soprattutto un grandissimo secondo tempo. Sì, diciamo, il primo tempo è stato equilibrato, anche se loro hanno avuto più il pallino del gioco e sono passati meritatamente in vantaggio. Secondo tempo, un po' per bravura nostra, un po' forse perché loro si sono abbassati un po' per scelta, non lo so, siamo riusciti a guadagnare campo, siamo stati molto pericolosi, siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Mi fa molto piacere, se non sbaglio, la quarta o la quinta partita che andiamo sotto e che riusciamo a recuperarla o a ribaltarla. Questo significa che la squadra ha trovato un'identità, non riesce a stare bene in campo e che i ragazzi anche sotto l'aspetto mentale siano cresciuti tanto.